ciao a tutti oggi prepareremo la marchisa al cacao il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa ingredienti sono tuorli d'uovo a temperatura ambiente bianchi d'uovo a temperatura ambiente zucchero semolato cacao amaro e fecola di patate diamo il via la ricetta iniziamo mettendo lo zucchero semolato all'interno del boccale e lo andiamo a polverizzare per 20 secondi a velocità 10 di questo zucchero a velo andiamo a metterne da parte 100 grammi il resto lo lasceremo all'interno del boccale devo aver prelevato 100 grammi di zucchero a velo e lasciato all'interno del boccale il resto andiamo a mettere i tuorli e li andiamo a montare per due minuti a velocità 5 i nostri tuorli sono ben montati andiamo a metterli da parte dopo aver lavato e asciugato benissimo il boccale mi raccomando non ci deve essere residui né di zucchero né di cibo né soprattutto di tuorli d'uovo andiamo a riposizionarlo perché adesso andremo a montare gli albumi andiamo a mettere la farfalla all'interno versiamo i nostri albumi che vi ricordo devono essere a temperatura ambiente e andiamo a montarli 6 minuti velocità 3 e mezzo leviamo il misurino a due minuti e mezzo circa dalla fine quando vedremo gli albumi che già saranno ben montati e ben alti andiamo a incorporare man mano dal foro del coperchio il nostro zucchero a velo poco per volta i nostri albumi sono perfettamente montati adesso andremo a incorporarli con i tuorli adesso andiamo a incorporare i tuorli con gli albumi con dei movimenti dal basso verso l'alto adesso andiamo a incorporare la fecola di patate e per finire andiamo ad amalgamare il cacao andiamo a incorporare il cacao dopo aver incorporato il cacao andiamola a versare su una teglia rivestita da carta da forno dopo aver steso l'alto dopo aver steso l'impasto sulla nostra teglia andiamola a cuocere a 220 gradi a forno preriscaldato statico per 8-9 minuti la nostra marchisa è cotta toccandola vedrete che ritorna indietro quindi è soffice facciamola raffreddare una volta che si è raffreddato questa sarà la consistenza è molto soffice possiamo utilizzarla come base per cheesecake o al posto del pan di spagna possiamo effettuare dei tagli e sovrapporre più pezzi è un alimento che può essere consumato dalle persone intolleranti al glutine perché non contiene nessun tipo di farine marchisa il cacao grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti